Prima o poi tutti dovranno fare i conti con l'usura delle proprie articolazioni e con i danni e con il decadimento della colonna vertebrale. È infatti un dato statistico che con il tempo abbiamo un declino del nostro apparato neuromuscolare e articolare che ci porterà a dei problemi. Ma la scienza ha fatto passi da giganti in questo campo sia nelle cure ma soprattutto anche nella prevenzione di questo. Ci sono quattro fattori determinanti che dobbiamo imparare a contrastare quando parliamo di biohacking, quindi di strategie di miglioramento della salute, della qualità di vita, della lunghezza della vita e del metabolismo, secondo scienza. Nel biohacking ci sono quattro cose che vanno tenute sotto controllo appunto per il decadimento dell'apparato neuromuscolare e per l'articolazione. Infatti i quattro fattori sono il primo, l'usura delle articolazioni. Infatti con il passare del tempo e soprattutto con l'aggiunta delle dismetrie funzionali che vanno a caricare maggiormente da una parte piuttosto che da un'altra avviene un'usura accelerata dalle articolazioni. Un altro fattore fondamentale è la compressione che la colonna riceve nel tempo e che quindi in alcuni punti critici darà spoggio poi a schiacciamenti, ernie, protrusioni, eccetera, eccetera. Poi c'è un altro fattore fondamentale che è la riduzione della produzione ormonale che abbiamo fisiologicamente nel tempo a partire dai 25 anni in poi. E anche qui la scienza ha fatto passi da gigante per stimolare e reintegrare alcune basi di ingredienti, alcuni neurotrasmettitori che servono a rimettere in moto il ciclo di produzione ormonale. E poi c'è il famoso accorciamento dei telomani, il vero fattore principale del decadimento e dell'invecchiamento. La scienza da questo punto di vista ha fatto passi da gigante e anche la nanotecnologia. E quindi sono uno dei tanti argomenti che tratteremo all'interno del nostro percorso di nanohacking e quindi di come applicare la nanotecnologia al mondo del biohacking. Se sei un professionista e ti occupi di salute, vuoi migliorare la qualità e la durata della vita, delle articolazioni e della salute generale dei tuoi pazienti, questo è il posto giusto per te. Grazie. 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 Grazie.